Eccolo qua, Banca Italia, il debito resta troppo alto così il paese è vulnerabile alle crisi e poi manovra, servono coperture certe, insomma ieri c'è stato questo intervento della Banca d'Italia che ha detto che ovviamente pare un disco rotto perché poi le cose che dicono sono sempre solite, il debito resta troppo alto, il debito pubblico dell'Italia si parla, ovviamente così il paese è vulnerabile alle crisi. Ok, è vulnerabile alle crisi il paese, ma il paese non è vulnerabile alle crisi in quanto c'è un debito troppo alto, cioè non è il debito in sé a essere troppo alto, come spieghiamo e ci sgogliamo di dirlo tutte le volte è l'architettura istituzionale che è stata creata intorno al debito pubblico, intorno all'Italia, intorno all'Eurozona che porta il paese ad essere vulnerabile alle crisi, non è il debito in sé. E faccio sempre l'esempio del solito Giappone, ma perché c'è il debito pubblico più alto del mondo, ma non è per nulla vulnerabile alle crisi il caro Giappone, nel senso lo sappiamo bene, lì c'è una banca centrale che supporta il governo nella sua azione, ed è quello che manca in Eurozona, in Italia, una banca centrale che faccia davvero la banca centrale, cioè che tuteli l'ordine democratico in qualche modo. Perché poi, perché parlo di ordine democratico? Perché nel momento in cui lo spread aumenta, dismisura eccetera, ci sono cambi di governo da un giorno all'altro, governi che in qualche modo sono stati indicati democraticamente. Quindi è per quello che dico, la banca centrale dovrebbe avere un ruolo importante anche nel tutelare in qualche modo l'ordine, non solo finanziario, ma anche quello democratico. Cioè nel momento in cui, mi spiego meglio, facendo sempre, restando sull'esempio del Giappone, nel momento in cui i cosiddetti mercati spingono e vendono titoli di Stato giapponesi, quindi il rendimento aumenta dei titoli di Stato giapponesi, la banca centrale interviene, acquista titoli di Stato e porta il livello del tasso di interesse al livello che si era prefissata. Ma in Giappone questo non avviene neanche perché sanno bene che la banca centrale è quasi un automatismo per la banca centrale intervenire con il, si chiama, controllo della curva dei rendimenti, no? Questa politica monetaria che porta, diciamo, da tempo porta avanti la banca centrale del Giappone. Ecco, quindi non è una questione di debito, di numero, di numerone, ma è una questione di architettura istituzionale, cioè di quello che abbiamo noi alle spalle che evidentemente in Eurozona la banca centrale non dà una garanzia così esplicita affinché possa tutelare sia... Appunto l'ha fatto, diciamo, solo in un periodo, ne abbiamo parlato proprio recentemente, anche con una bella intervista a Alessandro Volpi, eccetera, che è appunto, lo ha fatto recentemente con il Whatever It Takes di Draghi, che però è stata una vissuta e implementata come una deroga, e tra l'altro che ha aggravato le cose, nel senso, se da un certo punto, se da quel punto di vista lì ha bloccato le speculazioni, perché appunto c'era il prestatore in ultima istanza, che in qualche modo faceva scappare ogni forma di speculazione, dall'altro poi essendo semplicemente una deroga, ha aggravato le cose, perché nel frattempo il debito pubblico è aumentato e quindi quando poi la deroga la sottrai, ti ritrovi con la vecchia architettura istituzionale che è fatta apposta per penalizzare e nel senso per trasformare il debito in un'arma di distruzione di massa economica in mano alle oligarchie, ti ritrovi con questa arma ancora potenziata in mano sempre alle solite oligarchie, quindi diciamo si è fatto un po'. Una cosa che viene raramente menzionata in questo periodo è relativa al fatto che tutti dicono lo spread sta aumentando, i giornali di sinistra o di sedicente sinistra si schierano contro il governo dicendo è colpa del governo eccetera eccetera, in realtà poi nessuno mette in evidenza un fatto che la BCE sta acquistando meno titoli di Stato, l'aveva già annunciato e lo sta facendo, quindi è questa la ragione, una delle ragioni per cui sta aumentando il rendimento di titoli di Stato, bisogna anche dire che è una questione diciamo di livello quasi globale o quasi globale, visto che comunque i rialzi dei tassi portano quasi naturalmente ad aumentare anche i rendimenti dei titoli di Stato, ovvio lo vediamo negli Stati Uniti che c'è un rendimento più o meno il decennale americano più o meno come il BTP italiano, siamo lì, però negli Stati Uniti nessuno parla di spread, nessuno allarme spread, non titola nessuno negli Stati Uniti allarme spread. Vabbè, sì effettivamente è vero, però pensa la potenza della banca centrale che soltanto facendo un annuncio, il famoso, il whatever it takes è stato quello più famoso degli ultimi anni, però soltanto annunciando senza intervenire effettivamente, concretamente nel mercato, come può diciamo cambiare? Perché il whatever it takes Draghi o chi c'era prima di lui Trichet non l'ha fatto nell'agosto, nell'autunno del 2011? Perché? Cioè questa è una grossa domanda, come mai? Perché nessuno la fa mai questa domanda? Che sarebbe curioso avere una risposta, il problema è che sappiamo bene come andò in quell'oscuro periodo e insomma ho avuto modo anche di parlarne recentemente, insomma con la morte di Napolitano, sono ritornate fuori anche queste questioni e sì sarebbe bene capirci un po' di più, ecco, perché non l'ha fatto prima? Se lo faceva prima avrebbe tutelato un governo democraticamente indicato dagli italiani, eccetera, eccetera, insomma, l'ha fatto però, ha deciso di non farlo, ha deciso di farlo dopo. Chiarissimo e ultra condivisibile. C'era qualche altra cosa volevi segnalare? Ma allora, allora, aspetta che... Ah no, ecco, vabbè, mi faceva ridere il titoletto di Milano Finanza, sempre sulla questione di Banca d'Italia. Ah scusa, non l'ho scaricata, parlamene, dimmelo. Lo dico io veloce perché tanto è un titoletto. Banca d'Italia, due punti, il governo faccia presto a ridurre il debito pubblico, porca vacca. Tutte le volte ci sono stati governi che hanno fatto presto a ridurre il debito pubblico, che cioè che sono intervenuti, vedi Monti, per ridurre il debito pubblico, sono andati via facendo macelleria sociale e andando via con un debito pubblico che era più alto rispetto a quello che avevano trovato all'inizio del governo. Quindi stiamo molto attenti quando ci dicono fate presto, fate presto, titolo sulle 24 ore qualche anno fa, appunto di quello scuro periodo, a ridurre il debito. Stiamo attenti perché ridurre il debito velocemente significa macelleria sociale nel 99,9% delle volte. Assolutamente. Allora chiudiamo con due cose proprio... Lo abbiamo sempre detto, se vogliamo un vero cambiamento, soprattutto dai nostri politici, è necessario che la consapevolezza sul funzionamento di un'economia monetaria moderna, che è quella nella quale viviamo, cresca sempre più tra i cittadini, che sono coloro che eleggono quei politici. Per questo Fef Academy ha realizzato il videocorso di Economia e Finanza Comunicata, e oggi ha un prezzo davvero accessibile a tutti. Una piccola spesa per una grande resa. E poi ti regaliamo anche il nuovo libro di Stefani Kelton, Il mito del deficit. Cosa aspetti? Tutte le info su www.fef.academy. Academy.